cari amici tanti saluti da serafino massoni oggi è non la dico più la data per evitare di sbagliare ma penso che siamo tra 7 8 9 gennaio 2010 vabbè e omosessualità non è diversità e mi riallaccio al video immediatamente precedente intitolato eugenio scalfari e l'omosessualità a chiedo scusa apro una parentesi e questo mio canale è un po come un porto di mare ed è sovraffollato sovraffollato per cui non riesco a gestirlo adeguatamente come vorrei per esempio ci sono nella messaggistica mi scuso più di 2200 messaggi e io faccio tutto quello che posso per rispondere a tutti ma non ce la faccio non ce la faccio continuano a crescere i messaggi non riesco a starci appresso quindi mi scuso mi scuso con tutti coloro che non ricevono risposta ma io più vado avanti con le risposte e più i messaggi aumentano e non ce la faccio a seguire tutti mi ci vorrebbero l'ho detto già mi ci vorrebbe una giornata di 24 più 24 più 24 allora allora ce la farei a ne approfitto anche per evidenziare che proprio perché questo canale è quasi come un porto di mare c'è un movimento continuo movimento continuo e io quando ricevo delle richieste di amicizia e io ricambio l'amicizia non c'è il tempo di andare ad indagare il canale il canale com'è com'è il canale di chi mi richiede amicizia poi quando uno si iscrive al mio canale c'è c'è la la dicitura di youtube che dice vuoi tu ricambiare l'iscrizione eccetera 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 e io vado a ricambiare l'iscrizione e può capitare che che io mi mi vada a iscrivere in un canale che magari non risponde non risponde diciamo allo spirito del mio canale per esempio recentemente mi è capitato di iscrivermi perché ho ricerto ho ricevuto l'iscrizione dice vuoi tu ricambiare l'iscrizione a un certo sito che mi pare che sia mi pare prato prato cobalto non ricordo bene subito dopo dopo che mi sono iscritto e ci ho messo l'amicizia e siccome per un guasto lavoravo in wireless e si muoveva tutto molto lentamente e prima che sparisse dopo aver dato amicizia e iscrizione ho dato il segno che sparisse tutto no ci ha applicato un po di secondi diciamo 10 15 secondi prima di sparire lavoravo in wireless per un guasto al qua alla dsl che è stato riparato ora e ho fatto tempo a dare un'occhiata e ho visto che si trattava di un canale di pedofilia ora ora io ho subito ho cancellato l'iscrizione l'ho cancellata subito però non ho visto il meccanismo per per cancellare l'amicizia per cui l'amicizia è rimasta adesso appena posso la vado a cancellare e ma 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 si tratta di di diciamo così di sviste che possono capitare ad uno che gestisce un canale e sovraffollato come 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 il mio ed è sovraffollato non 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 per grazie di dio o o per raccomandazioni o per nepotismo è sovraffollato semplicemente perché ci lavoro da due anni e mezzo da due anni e mezzo tutti i giorni anche 8 10 ore al giorno lo posso fare perché sono pensionato uno di quelli che si è che si è molti mi hanno informato gentilmente dicendomi guarda serafino massoni che ti sei iscritto ad un canale di un pedofilo e io li ho ringraziati ho detto grazie grazie e adesso cancello l'amicizia appena possibile appena possibile la cancello avevo già cancellato l'iscrizione cancello l'amicizia qualcuno neanche ha approfittato no proprio per insultarmi per dice per dirmi mi pare che sia uno che c'ha un nickname particolare mi pare autari rex longobardo su c'è addirittura c'ha c'ha un nickname che fa riferimento a re longobardo autari e lui mi ha detto eh sì l'imps ne spende tanto tanti di soldi per la pensione per la pensione per mantenere quelli come te quelli come te in pensione e io gli ho risposto a questo qua pubblicamente sul mio profilo gli ho detto sì io sono in pensione dopo aver in pensione come come preside di ruolo di licei classici e scientifici però ho fatto 35 anni di servizio in più quando ero giovane per laurearmi ho svolto tanti lavori manuali manuali tanti lavori ma anch'io ho lavorato adesso lavora tu caro amico non è mica colpa mia se tu sei nato dopo di me ecco va bene cari amici certo il canale è sovraffollato perché io mi ci posso dedicare anima e corpo e una decina d'ore al giorno e sono già due anni due anni e mezzo che ci lavoro per questo è sovraffollato ma quando un canale è sovraffollato il titolare del canale fa fatica a seguirlo ecco chiusa questa parentesi adesso parliamo di omosessualità non è diversità la omosessualità non è diversità e questo video si rilaccia appunto come avevo detto prima al video immediatamente precedente intitolato eugenio scalfari e l'omo eugenio scalfari e l'omosessualità dove evidenziavo che quella quell'esponente della bella intelligenza di sinistra di sinistra di sinistra c'è l'intelligenza di destra che compie certi errori c'è l'intelligenza di sinistra che compie altri errori e ho scritto ma eugenio scalfari nell'articolo che io ho mostrato e tu parli sempre degli omosessuali come diversi e implori implori nel pubblico dei tuoi lettori che nei confronti degli omosessuali che sono diversi e si applichi si applichi il detto cristiano no di amare il prossimo e nel prossimo ci sono anche diversi cioè tu poi però tu siccome i tuoi lettori eugenio scalfari hanno detto che la omosessualità è una questione è una questione genetica è una diversità genetica ma è anche un atto un comportamento volontario e tu non li hai mai smentiti hai sempre detto sono dei diversi ma bisogna volergli bene bisogna trattarli come tutti gli altri anche se sono diversi beh qui il punto e l'intelligenza di sinistra non può non può cercare di salvare capra e cavoli e io lo so che tra i lettori di eugenio scalfari ci sono anche i cattolici e ai cattolici non andrebbe bene forse che eugenio scalfari scrivesse gli omosessuali dice scrivesse gli omosessuali non sono dei diversi non sono dei diversi sono come tutti gli altri esseri umani e allora deve accontentare eugenio scalfari i suoi lettori di sinistra ma cattolici e cercando di muoversi come un equilibrista e ho evidenziato infatti che si comporta anche realmente come un equilibrista e eugenio scalfari non mi pare di aver detto niente di male se ho evidenziato la realtà qual è la realtà che eugenio scalfari ha diciamo così potenziato la la propria posizione di di fondatore della repubblica di direttore per tanti anni della repubblica e sparando 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 letteralmente a zero contro il premier sparando a zero facendosi bello no in modo di accappare lettori e portare via lettori all'unità tra l'altro perché è stata la repubblica che ha fatto morire l'unità e lui lui spara a zero per farsi vedere farsi vedere bello dai suoi lettori però spara a zero contro il cavaliere ma poi poi mica lo scrive nei suoi interventi nei suoi editoriali che poi va a pubblicare i suoi libri per berlusconi li pubblica tutti da berlusconi i suoi libri e da quando egli andò in pensione come direttore della repubblica adesso è pubblicista editorialista da quando andò in pensione si è messo a scrivere dei saggi non ricordo quale fu il suo primo saggio so soltanto che glielo rifiutò ad elfi ad elfi ed elwise della casa editrice glielo rifiutò ma lui lo disse esplicitamente non me l'ha pubblicato ad elfi allora mi sono rivolto a mondadori e io poi e poi a continuato a scrivere libri a pubblicarli sempre o per mondadori o per inaudi e inaudi fa parte di mondadori mondadori e di mediaset di fininvest e di berlusconi allora io non riesco a capire come possa fare uno a a sparare a zero contro il premier e poi a pubblicare i libri per le case editrici del premier e sì che in italia non c'è mica soltanto il gruppo editoriale mondadori c'è anche il gruppo editoriale rizzoli il gruppo editoriale feltrinelli poi se uno è proprio di sinistra può pubblicare per editori riuniti ma ce ne sono dei casi editrici al di là del gruppo editoriale mondadori quindi io qui abbiamo proprio il comportamento il doppio giochismo come si chiama no tenere il piede in due staffi sparare a zero contro berlusconi e tutti ad applaudirlo scalfari poi però dopo dopo scalfari va a pubblicare i libri da 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 berlusconi non lo trovo un comportamento coerente va bene allora torniamo al discorso qua su omosessualità che non è diversità molti commentatori a quella quel video lì intitolato eugenio scarfari e l'omosessualità molti lettori ci sono trovati d'accordo con la mia posizione altri invece hanno contestato il fatto che io definisca e l'omosessualità come una realtà di natura sociale e non naturale genetica e va bene fin qua andiamo bene però tanti mi hanno contestato senza senza alcuna plausibilità senza per dicendomi che no l'articolo di eugenio scalfari parla bene dice che gli omosessuali vanno trattati come tutti gli altri sì però però il problema un altro il problema è che eugenio scalfari nei suoi articoli anche nel titolo non non ha mai smentito che egli ritenga gli omosessuali dei diversi il punto è quello che eugenio scalfari ritiene gli omosessuali dei diversi allora ditemi questo se non è un modo surrettizio di ghettizzare di nuovo gli omosessuali si dice sì dobbiamo dargli gli stessi diritti che hanno tutti gli altri cittadini però sono dei diversi e nei confronti dei diversi bisogna avere la carità predicata da Gesù vedete proprio un articolo si chiama ad uso un delfini no ad uso un delfini perché le parole vanno sono ben misurate le parole sono misurate per un pubblico di sinistra che è un po ateo e un po cattolico e vanno accontentati tutte e due ecco quei giochi di equilibrismo che saltano fuori lui fa l'intelligenza di sinistra dicendo che gli omosessuali vanno vanno trattati alla stessa maniera di tutti gli altri stessi diritti stessi diritti anche lo dice col punto di domanda perché mai negare agli omosessuali anche la convivenza i patti di convivenza punto di domanda non ci va mica il cuore del problema però non dice mica ma gli omosessuali non sono dei diversi e allora vediamo vediamo qual è la posizione di Serafino Massoni nei confronti della omosessualità tra l'altro su questo canale di video sulla omosessualità ne trovate tantissimi cioè questo video qua questo qua non è mica il primo che faccio e neanche il secondo ne avrò fatto una decina e ho spiegato ho spiegato a più a più a più riprese come era considerata per esempio la omosessualità nella nella nel dialogo platonico sull'amore ho anche spiegato che filippo secondo il macedone il padre di alessandro magno nella mi pare nella battaglia di chironea dove sconfisse sconfisse i tebani e capitò che questo re di macedonia filippo secondo il macedone visitò il campo di battaglia di chironea dove le falangi macedone avevano sconfitto le falangi tebane e i suoi generali li fecero osservare che in quel certo punto là del campo di battaglia giacevano morti i soldati della legione sacra la legione sacra dell'esercito tebano mi pare che si chiamasse legione sacra o legione d'onore che era composta tutta di omosessuali i quali avevano affrontato i macedoni i quali omosessuali tenendosi per mano tenendo se erano morti tenendosi per mano e quando i generali gli fecero osservare appunto che che lì c'erano tutti i soldati della regione sacra tebana che erano tutti omosessuali filippo secondo il macedone disse che gli dei che gli dei possano maledire qualunque persona che che vorrà parlare male di questi uomini qualunque persona che vorrà parlare mica detto che è diversi che erano diversi che dio maledica chiunque osi parlare male di queste persone alcuni e mi hanno contestato dicendomi che eugenio scalfari ha usato la parola diversi in un significato come dire positivo perché diverso mi fanno notare diverso mi fanno dare non ricordo chi è il blogger ma sta nei commenti al video eugenio scalfari e l'omosessualità mi fanno dare che anche san francesco d'assisi era diverso ma io io rispondo che non ho mai letto da nessuna parte che san francesco d'assisi sia stato descritto come un diverso non ho mai sentito dire da nessuno che gesù cristo era un diverso anche se era se gesù cristo era migliore migliore ma non ho mai sentito ma neanche einstein io da nessuna parte ho letto che la mente di einstein l'uomo einstein lo scienziato a einstein fosse diverso io ho sempre sentito parlare di diversi in senso un po un po negativo ancora qua questi due due o tre commentatori che fanno che fanno gli equilibrismi con i giochi di prestigio no i giochi di prestigio con le parole avete mai sentito voi da qualche parte nominare einstein come diverso come diverso ma avrete sentito nominarlo come una persona meglio dotata intellettualmente come consente intellettuale che tra l'altro che tra l'altro bisogna dire che albert einstein se fosse cresciuto figlio di minatori e avesse lavorato in miniera ecco la sua mente meravigliosa però non avrebbe mai elaborato la teoria della relatività e già alcuni prima di me alcuni hanno notato che chissà quanti giotto quanti giotto non sono diventati giotto perché hanno dovuto spingere l'aratro l'ambiente l'ambiente albert einstein fatelo nascere voi e in una in un ghetto in un ghetto fatelo nascere la al quartiere le vele mi pare di napoli e vedrete fategli spacciare la droga a 9 o 10 anni e vedrete che il suo cervello non produce non produce la teoria della relatività il fatto è che il cervello di einstein si è costruito in un ambiente in un ambiente che che ha consentito a quel cervello di impregnarci di tante notizie e di poter quindi elaborare la teoria della relatività perché i geni i geni quanti geni quanti geni che lavorano in miniera quanti geni o che lavorano nelle stalle ma quanti geni che lavorano magari che sono i call center o fanno i muratori ma quanti geni non è sempre possibile realizzare le proprie potenzialità genetiche dipende dall'ambiente ora diverso ma per caso sono sono diversi allora sono diversi gli ebrei sono diversi gli ebrei e gli atei sono diversi gli atei definiamo diversi anche gli atei perché hanno un comportamento diverso gli atei dalla generalità dei cattolici o dei cristiani e ma scusatemi adesso per per andare più la ma chi pratica scusatemi il coito anale che è diverso è un diverso ma quando i nostri bravi missionari andavano tra i selvaggi tra i selvaggi e vedevano che gli accoppiamenti si facevano secondo il costume degli animali che volgarmente si dice alla pecorina alla pecorina anche i missionari dicevano no 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 questo comportamento non va bene e si chiamava e insegnavano ai selvaggi che non dovevano far l'amore alla pecorina come gli animali ma dovevano far l'amore con la donna sotto e l'uomo sopra e si chiamava ha preso il nome della posizione del missionario allora dobbiamo dire che scusatemi che tutti quelli che fanno l'amore a pecorina sono dei diversi perché i missionari hanno detto ai selvaggi che non si doveva fare l'accoppiamento in quella maniera là e per i missionari erano erano dei diversi quelli là perché si comportavano diversamente dal cristianesimo ma bisogna vedere se loro 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 selvaggi si sentivano dei diversi e come vedete anche la diversità scusatemi è una convenzione è una convenzione come dire il polo nord e polo sud è una convenzione che lassù ci sia il polo nord e raggiù ci sia il polo sud potremmo fare anche l'inverso così anche la questione della diversità degli omosessuali è una convenzione è una convenzione il grande Schopenhauer che erroneamente viene definito un pessimista invece era semplicemente un lucido realista si era posto il problema del problema del perché la natura che altro non fa che pensare a perpetuarsi all'infinito abbia consentito che esistano degli esseri degli individui che non si perpetuano perché se due omosessuali si uniscono fra loro non si perpetuano e cosa disse Schopenhauer cosa disse il grande Schopenhauer disse nel 1800 non oggi ai tempi di Eugenio Scalfari ancora più indietro nei tempi come vedete quando si è dei veri uomini di pensiero i tempi non contano non hanno contato per i grandi intellettuali francesi non hanno contato i tempi per Socrate e disse la natura ha stabilito che esistono gli omosessuali cioè persone che non perpetuano se stessi perché allevare i figli è così difficile che i genitori hanno bisogno di qualcuno che non ha figli e che era una mano pensate non ha mai detto che gli omosessuali erano diversi ha detto soltanto che la natura aveva provveduto in tal modo ad aiutare i genitori ad allevare i loro figli poi poi molti mi hanno tirato fuori la questione dei caratteri recidivi recidivanti non mi ricordo bene qual è il termine cioè siccome io avrei ho sostenuto che la omosessualità non dipende dai geni non è una questione genetica ma è una questione ambientale perché ho osservato che gli omosessuali saltano fuori da una famiglia eterosessuale da una famiglia eterosessuale e loro mi hanno detto mi hanno risposto ovviamente ma hanno ragione in questo e dice ma ci sono dei caratteri che magari erano del nonni dei bisnonni e non ricordo quali sia il termine che indica questi caratteri che anziché presentarsi nella generazione successiva si presentano in generazioni molto 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 più in là negli anni e dice può darsi pure che va bene ma che cosa vuol dire non vuol dire nulla questo spostare l'attenzione sui geni sui geni significa dimenticare che i geni hanno una valenza per per il nostro aspetto fisico la genetica ha una valenza per la colorazione degli occhi per l'aspetto fisico ma non ha valenza per il per i comportamenti non ha valenza per gli orientamenti sessuali la genetica ma l'ho già parlato tante volte di quello che successe nel settecento con quello che fu definito il giovane selvaggio dell'aveiron l'aveiron è una regione della francia e lì venne scoperto che una specie di tarzan e su questo su questo episodio ci furono lunghi dibattiti tra gli intellettuali francesi del secolo dei lumi il selvaggio dell'aveiron il giovane lì venne scoperto a un certo punto che venne rinvenuto un ragazzo di 14 15 anni che misteriosamente era sempre vissuto nelle selve abbandonato abbandonato chissà come era sopravvissuto chissà come era sopravvissuto chissà allattato allattato dalle lupe chi si sa non si sa e questo era un ragazzo era un ragazzo un ragazzo vero e proprio essendogli mancato l'ambiente umano non era stato non aveva imparato a parlare al momento giusto ed egli ormai non era un uomo era un uomo per l'aspetto ma la sua mente la sua mente che non era stata scusatemi bombardata delle informazioni ambientali si era atrofizzata e non gli fu più possibile insegnare a parlare quante volte vi ho detto che i geni sono delle potenzialità ma la potenzialità tale resta se non trova l'ambiente in cui svilupparsi i geni sono delle potenzialità perché queste potenzialità si realizzino c'è bisogno dell'ambiente come dimenticare che il primo ambiente dei geni il concepimento quando avviene il concepimento quando si uniscono il gamete maschile il gamete femminile in quel momento lì abbiamo il concepimento in quel momento quando si uniscono gamete maschile spermatozoo e il gamete femminile lovulo noi abbiamo l'embrione l'embrione è già vita lì c'è la scheda genetica nell'embrione abbiamo la scheda genetica allo stato potenziale ma come dimenticare che questa scheda genetica che è l'embrione ha per suo primo ambiente il grembo materno per nove mesi la scheda genetica l'embrione che si forma subito subito con il concepimento per nove mesi ha come ambiente come ambiente in cui cresce il grembo materno ma che cos'è il grembo materno per l'embrione che piano piano si sviluppa poi diventa feto cosa è il grembo materno se non un ambiente carico di sollecitazioni biochimiche biochimiche e da che cosa dipendono le sollecitazioni biochimiche della madre da che cosa dipendono dal suo stato di salute fisica e mentale da come la madre gravida vive se è serena se è infelice se ha problemi se è picchiata dal marito se non è picchiata se è costretta a prostituirsi se beve vino se beve alcolici se fuma queste continue sollecitazioni elettro chimiche elettro biochimiche ne possono modificare la scheda genetica migliorandola o peggiorandola migliorandola o peggiorandola noi dimentichiamo sempre che il primo ambiente il nostro primo ambiente ambiente che sviluppa la nostra scheda genetica è il ventre è il ventre noi noi siamo nel liquido amniotico dentro la placenta come il pesce nel mare è in questo ambiente che noi riceviamo le prime fondamentali sollecitazioni ambientali perché il primo ambiente della scheda genetica è il ventre materno nel ventre materno si avverano si verificano una infinità di sollecitazioni elettro biochimiche nei confronti da quella scheda genetica chiamiamola così che 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 siamo noi appena concepiti quella scheda genetica che è l'embrione che è una virtualità una pura virtualità noi dimentichiamo sempre questo e se la scuola la nostra scheda genetica ha delle tare ma l'ambiente materno è altamente positivo nel corso dei nove mesi quelle tare possono sparire non c'è stata ancora da parte degli scienziati una verifica di quello che sto affermando o una smentita gli scienziati fanno il conto dei difetti con cui uno nasce ma non hanno mai fatto il conto dei difetti genetici delle embrioni che sono scomparsi nel corso dei nove mesi di gravidanza perché siamo sempre portati a dare poca importanza ai nove mesi di vita intrauterina e poi ci si sviluppa quando si viene la luce poi ci sono i contatti con mamma e con papà con la famiglia mamma papà i nonni fratelli gli zii e via di seguito e anche qua nel corso dei primi giorni dei primi settimane i primi mesi i primi anni di vita si forma il nostro orientamento sessuale a seconda di come veniamo manipolati a seconda delle molteplici interazioni che si pongono tra il neonato e il suo papà e la sua mamma perché le vie dell'imprinting sono infinite quindi la genetica c'entra poco c'entra per quello che riguarda l'aspetto fisico ma non certamente per quello che riguarda i nostri comportamenti il nostro modo di comportarci noi parliamo non perché la scheda genetica ci fa parlare non è vero il salvaggio della veiron noi parliamo perché siamo bombardati quando nasciamo siamo bombardati delle notizie dall'ambiente familiare o dall'ambiente extra familiare impariamo a parlare perché l'ambiente e così gli orientamenti sessuali e ci ha insegnato sigmund freud che cosa viene nel corso della quella che gli chiama la scena primaria quando il bambino la bambina o i bambini stanno nel lettone con mamma e papà anche gli orientamenti sessuali si apprendono e si dice no è tutto geneticamente condizionato ma pensate voi che uno desideri per esempio uno qualsiasi essere umano desidera un altro essere umano del proprio sesso o del sesso opposta è a secondo a secondo di quello che egli ha nella mente il desiderio sta nella mente per esempio un uomo un uomo che è stato imprintato in maniera omosessuale nella propria mente avrà il desiderio per individui del proprio sesso e il desiderio guiderà la secrezione ormonale per la secrezione per l'erezione ma nasce il desiderio sta qua non sta negli organi genitali un individuo eterosessuale che sia uomo o donna quando vede un altro individuo del sesso opposto che suscita dell'interesse lo vede lo vede lo vede lo desidera c'è la cascata ormonale che dalla mente scende agli organi genitali la sessualità non è l'operazione genetica cioè l'orientamento sessuale non è una questione genetica è una questione mentale la mente la mente imprintata in una certa maniera poi guida 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 tutta la secrezione ormonale nei suoi vari livelli sino a comandare gli organi genitali va bene cari amici io a tanti a tanti a tanti commentatori ho consigliato che anziché perdere tempo a leggere le opere di cioè a leggere gli articoli di eugenio scalpari sarebbe bene che leggessero il saggio sull'amore di platone e lì vedrete che platone non parla mai di diversità si parla di diversità cari amici gli omosessuali non sono diversi sono siamo non solo diversi dire che un omosessuale è diverso vuol dire non avere capito nulla o quasi nulla della della potenza dell'imprinting ambientale inutile dire ma eugenio scalpari ha usato la parola diversa diversa diversi in una maniera elogiativa ma questo è un escamotage un escamotage da 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 quattro soldi sappiamo bene cosa vuol dire diversi nella nostra società quindi dare dei diversi a agli omosessuali è come dare dei diversi agli atei gli atei sono dei diversi come dare dei diversi agli ebrei o anche dare dei diversi agli islamici eh va bene o anche a dare dei diversi a quelli che 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 praticano il coito anale scusatemi anche il coito orale scusatemi cari amici se faccio questi riferimenti ma visto che stiamo parlando della diversità è inutile usare la parola diverso nei confronti degli omosessuali i quali omosessuali hanno un orientamento sessuale nei confronti degli individui della loro stessa sessualità non si vede bene quale sia il dove sia la diversità ma certo ma che cosa dipende tutto ma perché esiste questo questa ancestrale differenza a prendercela prendersela con gli omosessuali in mille maniere diverse o in maniera chiara in maniera chiara o in maniera assurrettizia e subdola come fa Eugenio Scalfari per cosa qual è cosa c'è al fondo cosa c'è al fondo e al fondo c'è il primo il primo imperativo del Dio del Dio Yahweh che poi ha partorito il Dio cristiano ma l'ultimo imperativo resta lo stesso il primo imperativo del Dio Yahweh è crescete e moltiplicatevi crescete e moltiplicatevi infatti ecco crescete e moltiplicatevi cioè siamo aperte le virgolette condannati a moltiplicarci e questa condanna l'abbiamo trasformata in una virtù per cui chi non si perpetua chi non si perpetua diciamo che è un diverso come c'è la maledizione divina nei confronti di Onan da cui Onanismo la masturbazione perché Onan Onan masturbandosi sperperava il proprio sperma non lo utilizzava ai fini pro creativi e così e così c'è la maledizione ancestrale che nasce col vecchio testamento nei confronti degli omosessuali perché gli omosessuali non partecipano all'ordine del primo Dio patriarcale che è crescete e moltiplicatevi ecco cosa c'è all'origine della condanna nei confronti degli omosessuali perché non partecipano a questa grande festa che è la moltiplicazione all'infinito della specie umana va bene cari amici io vi prego tanto di soffermarvi se avete tempo su un mio precedente video intitolato genetica grande idea dove queste cose le spiego meglio ma in un contesto più generale non specifico relativo agli omosessuali cari amici io vi ringrazio se mi avete ascoltato se mi avete dedicato il vostro tempo e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni